La regione di Curia Assessore l'abbiamo visto che ci tocca Noi siamo risolti dalla barra, siamo vivi Siamo vivi sulla barra, quindi possiamo partire 15 secondi alla partenza, preparatevi Sì, 5, 4, 6, 9, 1 La regione di Curia Sì, 5, 4, 6, 2, 1 La regione di Curia Grazie a tutti. Grazie a tutti. Opa! 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 Oh Dio! Sì, è stato morto che non è morto! Vite, venite, c'è posto! La fotografia è statica, non è che si muove! Un attimo, andiamo a provare via! Sì, sì, poi riprendiamola! Ciao!